Siamo con Massimo Bertmuller qui in Piazza del Popolo. Un invito a tutti i ragazzi a partecipare al grande sciopero che si darà il 15 marzo. Uno sciopero importante e importante che i giovani facciano sentire la loro voce contro il cambiamento climatico. Sì, ci voleva infatti una ragazzina, questa ragazza Greta, che ha protestato perché giustamente vuole rivendicare il suo diritto a un futuro, a un futuro vivibile, respirabile. E qui infatti è pieno di giovani, questo fa piacere, perché più che altro loro sono i destinatari di questa lotta, di questa giornata che è il 15 marzo, in cui si penserà uno sciopero soprattutto nelle scuole per il clima. E beh, considerato che noi facciamo tutti parte come di un club, il club della vita su questo pianeta, per cui i soci saremmo noi, gli animali, l'acqua, il mare, il bosco, la natura, e sapendo che se fai del male a uno solo di questi soci, fai del male pure agli altri, allora rimane abbastanza incomprensibile come il tema del clima, che già sta dando i suoi segnali chiarissimi, che abbiamo pochissimo tempo, forse ce lo nascondono pure per evitare panico che abbiamo superato il punto di non ritorno, che questo tema del clima non sia al centro delle agende degli stati di tutto il mondo, anzi c'è qualcuno che ancora ci scherza su.